Salve a tutti, con questa piccola video lezione voglio spiegare la funzione e il funzionamento di Audacity questo programma funziona da chiavetta, se si sposta questa cartella all'interno della chiavetta funziona dal DVD come in questo caso, questo è tutto il contenuto del DVD presentato quindi non c'è neanche bisogno di installarlo, perché tutto il contenuto è all'interno della cartella del programma si sposta la cartella e il programma è disponibile, quindi in qualsiasi computer dove si lavora si possono realizzare degli audio e degli appunti e delle micro audio lezioni da distribuire, memorizzare o archiviare basta cliccare su audacity.exe e il programma parte ecco, questa è l'interfaccia, io spiego solo l'aspetto più semplice eccola qui, sembra un vecchio registratore, tasto rosso registra, riproduci, pausa e stop vai all'inizio, vai alla fine, qui c'è la regolazione del microfono e la rivoluzione del volume semplicissimo, basta cliccare il tasto rosso ed ecco che la traccia si produce A, 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 può essere anche usato per la rieducazione, questo programma, cosa che io ho anche utilizzato ma a noi interessa perché ci permette di registrare delle lezioni fatto questo, io clicco pausa o stop a secondo di quello che voglio fare e semplicemente andando in file, esporta come mp3 oppure la selezione, se io voglio selezionare una parte e portarne via solo una parte una volta che io chiedo al programma di sfruttare il mp3, decido dove, lo chiamerò guida audacity ecco, gli dico salva, naturalmente il programma mi dice ma ce l'ha il codec per fare gli mp3 visto che gli mp3 sono un formato compresso, io gli devo dire dove sono allora siccome la prima volta poi basta, io audacity ce l'ho nel dvd in questo caso che sto usando, gli dico che il codec che sono le lame vedete le lame, lame encoder, eccole qua, apri, il programma a questo punto sa dove andare a prendere il codec di compressione, basta dire ok ed ecco che il mio programma mi ha compresso il file audio questa operazione si fa una volta sola e poi dopo il programma sarà in grado di comprimere ogni volta il file infatti guida audacity è quella qua, fatta come mp3 io ci clicco sopra e me l'ascolto ecco, quindi ho creato un mp3 questo mp3 è un file che può essere tranquillamente diffuso riascoltato e archiviato, questa è la cosa più importante quindi torno a dire audacity funziona da chiavetta, non ha bisogno di installazione ecco, questo è un po' tutto è possibile fare anche delle sovraregistrazioni quindi continuare questa registrazione perché audacity permette la multitraccia fatta questa traccia, che è questa qui, che abbiamo fatto io ne posso fare un'altra questa è la seconda registrazione naturalmente devo fermare l'audio della prima e poi posso, gli dico muto, e registro la seconda traccia ecco, questa è la seconda registrazione vedete, permette un sacco di registrazioni io rendo mute le due e faccio la terza ecco, a questo punto faccio l'altra adesso posso parlare e viene fuori la terza registrazione se io voglio aggiungere tutte queste tracce una dopo l'altra seleziono, copio e incollo e riesco ad ottenere la somma di una registrazione completa quindi, nella versione più semplice c'è una registrazione di una traccia se la versione è più complessa, io posso mettere una dopo l'altra oppure fare tre registrazioni con tre nomi diversi ecco, questo è tutto e buona sperimentazione grazie 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 grazie